Renzi sbancato, ed è un bel titolo, direi, nello stile del manifesto, perché Renzi tenta un attacco e in realtà subisce uno svaliggiamento, perché tenta Renzi sbancato. Sul caso Visco l'ex premier resta solo, ci dice il giornale diretto da Alessandro Sallusti, il suo è soltanto un tentativo elettorale di contrastare Grillo e di coprire le malefatte del PD. E' così? Renzi va fatto un assist? Passami questa battuta, cioè Renzi oggi sta mettendo in piedi e sta portando in porto l'unica rottamazione che gli è riuscita, quella di disintegrare il Partito Democratico. Oggi Renzi è solo, è solo all'interno del suo partito, è solo nel paese e quindi sta provando il tutto per tutto per nascondere i tre salvataggi che il governo di Renzi ha fatto, ricordiamoci che oltre 20 miliardi di denaro pubblico hanno salvato le tre banche, quindi questa a noi sembra un portare avanti, una questione per coprire quello che è stato Banca Etruria, che è stata legata come detto tu prima alla vicenda Boschi, per coprire MPS, che abbiamo visto le Iene con quel servizio agghiacciante, come hanno di nuovo tirato in ballo, quello che potrebbe essere non un suicidio, ma un omicidio, questo indagherà la magistratura e speriamo assolutamente la magistratura faccia chiarezza. Banca d'Italia ha delle responsabilità, Visco ha delle responsabilità, perché in quanto governatore lui fa capo... Però ho l'impressione che su Visco sei un po' d'accordo con Renzi. Noi lo dicevamo molto prima di Renzi, Renzi come hai detto tu ci sta copiando per fini elettorali, mentre noi abbiamo portato avanti motivazioni concrete, lui lo sta facendo per scontri interni al partito. Vedete, vedete da casa i conti che li fate, vedete che c'è una corsa comunque a posizionarsi in prima fila in quella che sarà fra poco una campagna elettorale che credo sarà una delle campagne elettorali più, come dire, più dure, più difficili della storia repubblicana.